Quasi 5 milioni di euro per costruire la prima scuola nuova di Teramo, antisismica e progettata in maniera innovativa con la tecnologia BIM e laser scanner. L'ufficio per la ricostruzione ha approvato il progetto del liceo artistico Montauti. La vecchia scuola inagibile in via Diaz sarà demolita e al suo posto sorgerà una struttura all'avanguardia che capitalizza gli spazi, avrà una palestra che oggi non c'è e si presenta aperta fisicamente e concettualmente alla città. È stato fatto uno studio sulla fattibilità per la messa in sicurezza, per la ristrutturazione dell'istituto artistico. È venuto fuori da questo studio che era più conveniente realizzare una struttura ex novo e renderla più funzionale e soprattutto più adeguata alle esigenze del corpo docente e dei ragazzi che fruiranno di questa scuola. Più aule, meno metri quadri sulla struttura, più aule e soprattutto più laboratori affinché i ragazzi possano sfruttare al meglio le potenzialità di questa scuola. Sono dei fondi Sisma già precedentemente assegnati alla nostra provincia. Un'opera che comunque riqualificherà anche la zona in cui l'eliceo artistico è ubicato. È un evento importante anche per la città di Teramo perché comunque si vedrà riqualificato non solo l'istituto artistico ma anche tutto il comprensorio in cui esso è ubicato. Nel 2020 dovrebbero partire i lavori, adesso successivamente le ferie estive partirà il bando per la progettazione, così mi hanno riferito gli uffici, non siamo riusciti a partire subito perché il bando è molto corposo in quanto è una somma molto importante e quindi ci sono delle cose da sistemare prima, adesso ci sono le ferie estive, appena le ferie estive ripeto ci sarà il bando per la progettazione e a seguire poi il bando per l'affidamento dei lavori. Il 2020 inizieranno i lavori e quindi credo nel giro di un paio d'anni la struttura potrà essere fruibile a tutta la città di Teramo e ai ragazzi dell'eliceo artistico.